17 settembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Faro TV, questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che come tutte le mattine puntuale alle 7.30 si accende, si apre sul nostro territorio per vedere quello che è successo, quello che i giornali hanno scritto e lo faremo tra poco con il nostro touchscreen, prima come di consueto guardiamo però l'almanacco che sa di antico, di sapore antico ma che è sempre un qualcosa che alla gente piace, abbiamo così sentito e quindi ve lo proponiamo, l'almanacco che nel nostro caso è anche molto breve perché ci limitiamo semplicemente a citare il santo del giorno, oggi è San Roberto Bellarmino per esempio, è stato vescovo, il sole è sorto alle 6.49, tramonterà alle 19.17, il tempo allora 25 gradi, già questa mattina già annuncia quello che sarà la giornata di oggi, sarà una giornata calda, una giornata estiva, una giornata tipicamente agostana, poi il tempo, la fotografia del nostro osservatorio meteorologico, osservatorio meteorologico con tutti i dati che ricordo potete trovare sul nostro sito internet occhiolanotizia.it e poi le previsioni per oggi della protezione civile delle Marche che prevedono sereno o poco nuvoloso per transito di nuvole medio-alte e stratificate, quelle che già ci sono guardando questa mattina il cielo. Temperature in aumento nei valori massimi e stazionarie invece nei valori minimi, i venti sono di brezza tesa da sud, nelle zone interne, raffiche fino a vento forte lungo il crinale appenninico, mentre saranno sud orientali quelli, i venti che soffieranno lungo la costa, quindi tutta roba che arriva da sud, tutta roba che arriva dall'Africa, il mare sarà mosso. Per domani, venerdì 18 di settembre, avremo cielo sereno poco nuvoloso con nuvole medio-alte, le temperature saranno in lieve diminuzione ma solo nei valori massimi e stazionarie nei valori minimi, i venti di brezza tesa da sud, il mare sarà poco mosso. Per sabato, ancora giornata soleggiata, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, con temperature e senza variazione di rilievo, i venti di brezza leggera nord, vedete hanno girato, nord-occidentali, quasi calmo il mare o al massimo, insomma, sarà poco mosso. Dunque, che cosa succederà nei prossimi giorni? Soprattutto nel fine settimana, avremo l'ingresso di un fronte freddo che determinerà un peggioramento dal pomeriggio di domenica, seguito da un temporaneo miglioramento dalla giornata di martedì, quindi è inteso che domenica pomeriggio, quindi la giornata di lunedì, sarà caratterizzata dal cattivo tempo e quando arriva l'area fredda, che si scontra con l'area calda, ormai anche i bambini sanno che avvengono i temporali, avvengono temporali anche di forte intensità. E considerando tutto l'accumulo di caldo che c'è stato in questi mesi, siamo ancora veramente al 17 di settembre, con un caldo che si è accumulato al suolo, l'acqua del mare è lo stesso, è ancora calda, quindi, insomma, speriamo bene per l'autunno, perché poi tutta quest'area calda tornerà fuori, durante i prossimi mesi, quindi quando arriverà l'inverno speriamo che non crei e non faccia danni il maltempo. Allora, adesso andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino. La situazione all'ospedale San Salvatore, intervista questa mattina a Manfredi Palumbo, che è durissimo sulla gestione del personale di Marche Nord, dice orari e attività privata in ospedale, una mancanza totale di controlli, ci sono stati anche degli ammanchi, intramenia senza regole, pagate anche 72 ore di fila. Non solo il caos dei cartellini per le presenze di lavoro, ma anche sovrapposizione di attività privata negli orari pubblici, cioè i medici che dovevano magari fare orario pubblico, quindi lavorare per il pubblico, in realtà facevano attività privata, facendosi pagare naturalmente. Quindi ecco, tutto un caos di questo genere. Le accuse del magistrato, dice Manfredi Palumbo, nell'azienda ospedaliera non venivano esercitati controlli di nessun tipo, sulla spinta invece delle indagini adesso si sta cambiando. L'inchiesta della Guardia di Finanza ha fatto emergere violazioni evidenti, i fatti per Palumbo sono sconcertanti. La vicenda del caso della fusione tra Monbaroccio e il Comune di Monbaroccio e Pesaro, se ne parla ancora diffusamente in maniera ampia sul resto del Carlino, il Sindaco, l'alternativa, dice il Sindaco di Monbaroccio, è chiudere tutto. Volantini manifesti per i Monbaroccesi, ecco l'elenco di ciò che non faremo. Il Sindaco, questo signore che vedete nella fotografia, è la metafora di moda tra i fusionisti, cioè prendere il treno lo usano sia il Sindaco Vichi che l'assessore pesarese delle Noci, che naturalmente ha tutto l'interesse affinché questa fusione avvenga. Pesaro, come vedremo tra poco anche su un altro giornale, ha tutto l'interesse di fondersi con il Comune di Monbaroccio, l'abbiamo già ricordato ieri, perché ha 30 milioni di euro nel cassetto da spendere che con la fusione verrebbero sbloccati, perché fanno parte di quei 30 milioni di euro e sono bloccati dal patto di stabilità. Quindi c'è tutto l'interesse del Comune di Pesaro. Adesso c'è una delibera, una delibera che doveva andare in Consiglio Comunale lunedì, ma l'opposizione, la minoranza, ha chiesto tempo per poter studiare le carte, per poter sentire gli esperti e quindi la maggioranza, la Giunta, il Sindaco, ha concesso due giorni in più per poter leggere tutto quanto. Poi si passerà al voto. Insomma, si cerca di stringere i tempi e di arrivare alla fusione entro il 31 di dicembre. Poi c'è il nodo del referendum. Chi potrà votare questo referendum? È chiaro che se votano i pesaresi, figuriamoci, manco farlo il referendum, dovrebbero votare solo i mombaroccesi. Si può fare, non si può fare, lo vedremo. Carloni del nuovo centrodestra, che è consigliere regionale, dice che non decidono solo Ricci e il Partito Democratico, noi rispettiamo anche la volontà dei cittadini. Il voto del Consiglio a Monbaroccio sarà invece, come dicevamo, il 23 di settembre. L'intenzione del Sindaco è di fissare per mercoledì la votazione monbaroccese riguardo appunto a questa fusione. Andiamo adesso sull'altra pagina del Resto del Carino. Una curiosità, una notizia curiosa che riguarda un cercatore di tesori sulla spiaggia. Questo signore in un anno ha trovato, pensate, 180 fedi d'oro grazie a questo marchigegno che appunto, questo metal detector da 3.000 euro che appunto utilizza tutti i giorni sulla spiaggia. La stagione di Matteo è appena iniziata e dicono che perdono di tutto. Un anello con i brillanti era grosso così, dice, e fa ricerche anche nell'acqua con la muta da sub. Poi da Fano invece, restando sempre nella zona mare e zona porto, però per altri motivi, per la cronaca, guardate queste immagini, si riferiscono ad un incendio che ha distrutto due natanti, due piccoli natanti ormeggiati vicino alla spiaggia di Sassonia. Vedete, qui siamo al laboratorio di biologia marina a Sassonia, guardate che fumo denso e nero, siamo intorno a mezzanotte e mezza circa, adesso più o meno questo è l'orario. No, in realtà qui dice che l'allarme di incendio è scattato martedì sera intorno alle 20.30. Sì, esatto, poi io in realtà faccio riferimento ad una mail che è arrivata in redazione, eccetera. Quindi l'incendio è scoppiato alle 20.30 circa. E si cerca adesso di capire un attimino quali sono le cause di questo incendio. Mentre a Fano, sempre a Fano, ieri i titolari della Simpli, che è un supermercato di Sant'Orso, un quartiere di Fano, hanno dovuto fare i conti con i ladri, perché nella notte sono andati a rubare all'interno del supermercato, ovviamente hanno puntato subito alle casse, se le sono portate via di fretta e furia, perché poi c'era l'allarme che tra l'altro spacca i timpani, così hanno detto, è molto forte, insomma hanno fatto tutto in pochissimo tempo. Auto contro una vetrata per pochi spiccioli, spaccata nel supermercato, perché hanno utilizzato la macchina per sfondare la vetrata e quindi entrare subito dentro il supermercato, spaccata nel supermercato di Sant'Orso a Simpli, altro furto invece al Conan City, che si trova in via Vespucci a Lucrezia, dove i ladri sono entrati all'una e mezza di ieri. Non si sa se sono gli stessi ladri di Sant'Orso. Certamente ieri l'altro era la nottata dei supermercati, perché poi è quasi certo che quelli di Sant'Orso siano gli stessi che hanno poi messo a segno un altro furto a Senigaglia, lo vedremo tra poco nell'altro giornale. Sotto ancora sulla pagina di Fano del Carlino, i migrati sugli autobus senza biglietto. Ora anche la sinistra alza la voce. C'è qualcuno che, qui vedete Vincenzina Turiani, qualcuno che adesso comincia a lamentarsi del fatto che ci sono turisti, ci sono persone che vanno e utilizzano gli autobus senza pagare il biglietto. Carnaroli invoca l'unione turistica, Urbino al centro di Pesaro e Fano. L'ex sindaco dice che senza la provincia serve una strategia comune, mentre sugli immigrati bisogna recuperare le esperienze riuscite degli anni scorsi. Poi sotto si parla dei due giorni di festa dell'unità che si terrà a Fano, sabato e domenica. Sono giornate intense di appuntamenti, si parte alle 4 e mezzo del pomeriggio con i sindaci di Fano, Pesaro e Urbino. Poi alle 17.30 si parlerà di pista ciclabile e la via verde del Metauro. Poi si parlerà ancora di tante altre cose. Ci saranno la senatrice Camilla Fabri, l'assessore Carla Cecchetelli, l'ingegner Fabio Gallo, Fausto Baldarelli della CNA. Insomma c'è un sacco di gente in questi due giorni, anche il presidente della regione Luca Ceriscioli che sarà ospite domenica invece, domenica pomeriggio alle 4 e mezzo, Luca Ceriscioli, Renato Claudio Minardi e tanti altri. Insomma questa è la festa dell'unità che si terrà nella città di Fano. E adesso invece apriamo il Corriere Adriatico. La pagina di Fano. Danno fuoco a due barche dismesse, l'incendio nell'area portuale, i natanti erano diventati rifugio per senza tetto. Dunque si segue la pista dolosa. Bisogna capire adesso se veramente c'era l'intenzione di bruciare e capire qual è lo scopo di questa azione, oppure se è semplicemente il clochard che fuma, si dimentica la sigaretta, accesa, prende fuoco, le temperature poi sono quelle che sono e quindi quello che è. Quindi niente di particolare. Bisogna vedere adesso quale delle due strade per gli inquirenti sia quella più veritiera. Dunque doppio colpo invece al notturno nei supermercati, spaccata al Simpli di Sant'Orso, porta forzata al coro di Lucrezia, il bottino è di 2.500 euro. Morto in ospedale disposta all'autopsia, domani l'esame sulla salma di Alex, ucciso da una crisi respiratoria, 40 giorni dopo l'incidente. Sindaco sotto ricatto del Partito Democratico, Comune e Commissariato, l'Udici rilancia le accuse contro Seri e contro Gostoli. Caserma, sulla caserma dei Vigili del Fuoco. Ieri Massimo Seri è andato a Roma per parlare con il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Gian Piero Bocci. C'è questo nuovo accordo per la serie Vigili del Fuoco e speriamo che questo accordo porti a dei risultati. Anche qui si parla della festa dell'unità, poi si parla dell'ambito sociale che è stato nominato il coordinatore di Senigallia, Mandolini, prende il posto di Battistini, licenziata del Comune in attesa del nuovo titolare. Poi c'è una notizia di Sport, che però trova spazio anche sulle colonne di Fano, si parla di volley e in particolare di questo fanese che vedete nella fotografia, si chiama Marco Pierotti e che fa parte dell'Under 21 ai Mondiali in Messico. Si parla di pallavolo, con Roscini e Pierotti il volley torna a sognare. Turismo e commercio contro le trivelle in Adriatico, lettera delle associazioni pesaresi a tutti i governatori italiani, è necessario fare presto. Pari opportunità, auguri di Gostoli, il segretario del PD ricorda che le tre pesaresi sono le più giovani. E poi da San Costanzo, servizi scolastici, le tariffe restano invariate, trasporto e mensa senza rincari, ma per i bambini c'è un nuovo menù. Poi Ivan Cottini e Ario Costa, campione di pallacanestro, un desiderio tra le stelle, serata all'insegna della moda e della musica. Una iniziativa che si terrà in Piazza Italia sabato 26 settembre alle ore 21. Poi da Senigallia invece droga e alcol, scuole sotto sorveglianza, task force di agenti del commissariato e della municipale, poi un bambino, sempre Senigallia, che è rimasto chiuso in automobile, il bambino ha solo un anno, la madre dimentica le chiavi sul sedile, i pompieri rompono un finestrino e prelevano senza grandi conseguenze insomma il bimbo di un anno. Maxi Comune slitta il Consiglio, anche qui la fusione tra Monbaroccio e Pesaro, concessi altri due giorni alla minoranza, Delle Noce dice, i tempi sono stretti, non possiamo perdere i fondi. Poi dal messaggero, solo due pagine per chiudere, Ersu commissariato, la città non ci sta, il sindaco Gambini, siamo a Urbino, chiede subito un incontro con Ceriscioli, la regione vuole mostrare le muscoli e minare l'autonomia. A Fano e Lucrezia, doppio colpo della banda dei supermercati, poi Carloni frena sulla fusione tra Pesaro e Monbaroccio, Varani invece, la cronaca, torna a chiedere gli arresti domiciliari, condannato a vent'anni per l'aggressione a Lucia Nibali. Chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero, Marina Group, barche a fuoco, Tonino Giardini parla di un gesto da Balordi, il responsabile del settore pesca, non credo, dice a una matrice intimidatoria, non voglio pensare che sia un atto deliberato contro la nuova strada. Morte di Alex, ancora da decidere l'autopsia sotto via Ruggeri, pressing per i rimborsi, l'assessore Paolini ha incontrato i residenti e si è impegnato a confrontarsi con la regione Marche. Caserma dei Vigili del Fuoco, il sindaco di Fano, dice abbiamo e cerchiamo una soluzione rapida. Ed è tutto, grazie per aver seguito la rassegna stampa, vi auguro una buona giornata, arrivederci a domani. Grazie.